La provincia di Salerno, partner ma soprattutto cuore pulsante integrante e promotrice di questo festival, Silla Fest, festival di scienze, ambiente e filosofia dell'acqua qui a Pertosa. Silla Fest è profondità di pensiero, profondità di azione e capacità di conoscere e amare la terra che ci ospita. Parte dagli abitanti e arriva fino alla narrazione turistica che la provincia di Salerno ha accompagnato dall'inizio. Oggi abbiamo dei dati favorevoli riguardo al turismo all'aria aperta, più 28%, credo che si vada nella direzione esatta. Silla Fest, rotti di Pertosa a Uletta, una meraviglia che dobbiamo imparare ad amare, conoscere e raccontare. Oggi comincia qui a Pertosa, Silla Fest, il primo festival nazionale di scienze, ambiente e filosofia dell'acqua. Un messaggio importante, la tutela dell'ambiente e dell'acqua soprattutto, di questa risorsa preziosa che parte qui da Pertosa. Grazie, oggi inizia il Silla Fest, festival di scienze, ambiente e filosofia. Che cosa vi proponiamo? Vi proponiamo di trascorrere il 7, l'8 e il 9 giugno con noi per navigare tra i mille saperi dell'acqua. Sarete circondati da un paesaggio straordinario, avrete le mostre, qua vedete, tetide, avrete la possibilità di assaggiare i nostri prodotti tipici, i nostri vini, di ascoltare e di confrontarvi con tanti esperti che a partire dalla scienza fino alla filosofia e all'arte vi parleranno di questo bene prezioso che è la goccia. Il nostro claim è la goccia che ama la roccia. Grazie.